Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore Gesù prese a parlare alle folle del Regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo, qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro, voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero, non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli, fateli sedere a gruppi di cinquanta circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, dodici ceste. Pace bene amici e ben ritrovati in questo giorno in cui celebriamo la festa del corpo e sangue del Signore, il Corpus Domini. Il Vangelo di oggi ci presenta un aspetto di questa salonità che è poi un mistero. Gesù, moltiplicando i pani, richiama un fatto storico ben preciso, quello della manna del deserto, dove Yahweh aveva sostenuto e provveduto alla fame del popolo donando loro da mangiare. Ecco, Gesù si presenta qui come colui che realizza le attese, le aspettative, la salvezza del suo popolo. Inoltre, questo brano del Vangelo richiama l'episodio, il fatto, il momento dell'ultima cena in cui Gesù prende il pane e, alzando gli occhi al cielo, lo benedisse, cioè lo spezzò e lo diede loro. Prendete e mangiate questo il mio corpo. Non solo questo, ma questo episodio, questo brano del Vangelo di Luca, ci proietta oltre la morte, nella Ressurrezione, quando Gesù appare ai discepoli di Emmaus, entra con loro, spezza il pane e lo riconobbero, dice il Vangelo di Luca, allo spezzare del pane. Allora, qual è il significato? Come possiamo leggere e approfondire questo brano del Vangelo? Situandolo nella festa del corpo del Signore. E il Signore ci dice, date loro da mangiare. Io vi do da mangiare il mio pane. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, questo è il mio sangue, versato per voi e per tutti, per la remissione dei peccati. Io vi do continuamente da mangiare il mio pane. Sono dono per voi, voi, quel poco che avete, radunatelo, raccoglietelo, cinque pani e due pesci. Poca roba, però con la benedizione di Dio, che è sempre con noi, con la potenza di Gesù, che non ci abbandona mai, non siamo mai soli, siamo sempre con Lui, con questa potenza, con questa fede, attraverso quel poco che abbiamo, possiamo e dobbiamo soddisfare i bisogni di tutti. Ecco, questo è il messaggio che possiamo e dobbiamo raccogliere dal Vangelo di oggi e dalla solennità del corpo e sangue di Cristo che stiamo celebrando e vivendo. È un pane spezzato quello di Gesù Cristo, è un amore vero, autentico, perché si è spezzato, si è consumato, si è annientato, è morto per noi e poi è risorto. Questo pane di risurrezione ci permetterà di camminare nel deserto, nelle fatiche della vita e questo pane che Gesù ci dà diventa un impegno per noi a donarci reciprocamente il pane in modo tale che la fedeltà di Dio, la presenza di Gesù, l'amore del Padre siano presenti e tangibili a tutti quanti si trovano in uno stato di bisogno. La comunità cristiana deve allargarsi e dilatare i propri confini abbracciando tutte le genti, tutte le persone che vivono sulla faccia della terra. Deve sentire a questa comunità cristiana l'urgenza di condividere questo pane spezzato. Ecco, in questo momento di fatica, di crisi economica, in cui ci ritroviamo tutti quanti, molti di noi, meglio, in uno stato di bisogno, di necessità, cerchiamo di spezzare, cioè di raccogliere quel poco che abbiamo per poterlo distribuire, perché con la potenzialità dell'amore di Cristo questo pane sarà, non soltanto sfamerà e darà quello che è necessario, ma darà molto di più perché furono portati via parecchie ceste di pane. Cioè non soltanto Gesù ha soddisfatto le urgenze, i bisogni primari, ma tutti coloro che beneficiarono di questo pane spezzato furono saziati a dismisura perché ne furono portati via parecchie ceste. Ecco, allora raccogliamo questo messaggio che perviene, che scattolisce dal mistero del Corpus Domini e cerchiamo anche noi di diventare pane spezzato in un abbraccio infinito, dilatato, che coinvolga noi, i nostri cari, gli amici, coloro che ci stanno vicini, ma anche i lontani, tutti quanti, perché il pane di Dio, il pane di Gesù, il pane che è Gesù è per tutti, nessuno escluso. Pace bene amici, a risentirci, alla prossima domenica. Grazie a tutti.